Questa manifestazione è una manifestazione di politica, non di antipolitica. Rispettiamo tutti coloro che vogliono fare opposizione in modo diverso dalla noi, ma non ci togliete il diritto di esprimerci, di parlare, di manifestare, perché se ci togliete anche questo ci togliete le libertà fondamentali. Non pensate che noi possiamo accettarlo. Per questo, nei tempi e nei modi che la legge ci permetterà, noi abrogheremo queste leggi che vengono fatte in violazione della collettività. Noi attiveremo, appena le condizioni tecniche ce le permetteranno, un grappolo di referendum che in modo determinato farà cancellare queste leggi. Ed ora in poi, nelle aule del Parlamento e nelle piazze, informeremo i cittadini giorno per giorno, giorno dopo giorno, ciò che si sta facendo. Lo faremo con tutta la determinazione che il caso richiede, perché quando c'è emergenza democratica si sta al fronte e non si scappa. Grazie.